Frizzante, agile, dinamica e dal design giovane e spensierato, è la piccola ma grande Citroen C1. Le luci diurne a LED, i colori vivaci della carrozzeria e le numerose possibilità di personalizzazione la rendono la City Car perfetta per spostarsi in città con stile. Le dimensioni compatte e lo stretto raggio di sterzata sono l'arma segreta per i parcheggi. La telecamera posteriore proietta immagini chiare sullo schermo da 7 pollici che non lasciano spazio a dubbi. Lo stile può anche essere pratico. Sotto il cofano, un piccolo tre cilindri di ultima generazione con 72 cavalli pepati al punto giusto, basse emissioni e consumi ridotti, si sposano a meraviglia con la trasmissione a 5 rapporti, disponibile sia con cambio manuale che col cambio meccanico elettroattuato ETG, Efficientronic Gearbox. Un cambio ideale per l'uso cittadino, dotato anche di palette al volante per ridurre lo stress nel traffico della rush hour. Tanta tecnologia a bordo col sistema Mirror Screen compatibile con i protocolli Mirror Link, Apple CarPlay e Android Auto per governare lo smartphone direttamente dal touchscreen sulla plancia. Non basta, Citroen C1 è connessa e si fa gestire da un'app con MyCitroen. Tutti i parametri dell'auto sono sotto controllo direttamente dal cellulare. Connessa, tecnologica e urban style. Ecco a voi, Citroen C1. Ecco a voi, Citroen C1.